bella a tutti ragazzi prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator xyuderone grazie mille per il vostro supporto attenzione ogni 14 giorni scade quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su instagram uno screen quello che volete io vi reposterò ma adesso video molto easy molto easy c'è la gente c'è la gente aspetta un attimo aspetta vieni pezzo di vieni pezzo di vieni brutta vieni 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 che ci divertiamo porca di quella porca di ti piace il mio furgone eh ok ma ti pare che devo fare tutto sto bordello per quattro lupi da ci sono cose più importanti da fare ci sono cose più importanti da fare andiamo ad aprire i frigoriferi forza forza che situazione e c'è un gran problema c'è uno snappone che spara come un treno io prendo barche e volo poi più fiero io prendo varche snappone su canziano la la si, la barretta la facciamo io ho una banana enorme di là veramente c'è hai detto così io non voglio sapere poi non me lo dica non era non era ho una barra ho una barra ho una barra ho una barra gonfiabile avevo poca vita tutti a me sparano mi spiace ma ti sei pulito prima il pisellino quando hai goduto che mi hai chillato te lo sei pulito il pisellino fallito fallito è uscito una pubblicità dei preservativi benissimo è un ottimo messaggio ragazzi in che senso ficcate sempre protetti tanto l'importante ficcare dopo adesso non si inserisca nelle mie marchette fatti per favore cosa sta facendo andiamo assolutamente porcaccia miseria porcaccia miseria io questa già la conosco io questa già la conosco hanno messo la skin ce l'hanno ce l'hanno ed eccola qua ragazzi ma che bella che è meravigliosa no vabbè dai gli hanno l'hanno l'hanno messa così l'hanno messa così raga io non pensavo che si potesse sì nuova skin spoilerata ragazzi guardalo qua c'ha le bracci e senza senza questo pezzo figa ti prego no 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 vi ammazzo tutti vi ammazzo tutti la madre quella grande signorina l'ho vista l'altra sera e la mattina aveva la gonna alzata chissà perché non l'aveva abbassata abbiamo recuperato però quattro ingrenaggi questo ci permette se trovassimo un arco verde di essere frecciati in testa eh vabbè lol chi sei batman non lo sai però presto lo scoprirai e poi tu scomparirai osanna il capo faceva no io facevo trutà 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 c'era no no gli piaceva c'era le signore che mi guardavano in questo modo dalla chiesa benedetto colui che viene papà papà tu fa tu pa bene le vecchiette con questa faccia si però un po' più piano magari nel senso si si contenga sta tipo a cascina quando era in macchina si è bello avere il pallino dentro fornita con quattro rampe ti ama sono assai da 230 metri in forma vai è scornato raga io 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 e ventu il pazzo ventuuu 500 chips vince la sottolineatura teo anche io tutto bene ne voglio un mondo infinito di bene ma cazzo perchè non la prendo ma vaffanculo ma vaffanculo ma faccio schifo ma faccio schifo al pesce ma dai ma non è una bella vittoria questa è una roba ridicola figa andiamo vorrei pescare un po' di pesci vedere se entro in top 10 vorrei tirare sopra i flopper vorrei sparare un po' meglio andiamo I think that I can adopt the fishing style mode because that's the way I like it c'è Gianfranco là in fondo oh 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 ce n'è una sinistra là dietro c'è proprio un gran problema Francesco lui mi spara e c'è il nostro Francesco che ce l'ha con me e io non so il perché ma lui ce l'ha con me è meglio che me ne vado è meglio che rimbalzo via Francesco sei proprio un bastardo signori ho l'idea non è un'idea ma è l'idea vai ecco l'idea ecco l'idea che tutti mi sparano due minuti e 34 e poi saremo salvi oh c'è Gianmarco Francesco lì ma pantano che cosa fai? ragazzi voglio ma quanta gente c'era con quella che pensi e lo zio il pazzo io non so parlare d'amore l'emozione non ha voce e lo snappo già lo sento me ne pento stai attento se lo snappo nella mia casa entra sempre con la prepotenza sai che cosa gli dirò ma il mio snappo io vedrò serenamente mi sa che un paio già ce ne ho cosa devo fare? oh un altro snappo io mi dico io io e mi dico il pazzo nappy pupate sta bega soca so pupamela questa bega snappo pupamela che ti piace assa ta piazza t'ammazzo t'ammazzo ammazza quella ammazza quella ammazza quella giro è questo io non no no non ce la faccio no non ne sono in grado non ne sono in grado non ne sono in grado no signori non ne sono in grado non ne sono in grado ne sono in grado Grazie a tutti.